Musica 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 Ci voglio qualcuno che si assuma le responsabilità e allora, tu pagano dici, vuoi fatto il suo discorso riesci a trovare un euro e si chiude giù E te, è il mamone di coraggio e che mi fa questa faccia e chiediamo un discorso Come ho trattato un tuo cancello non va a scappare No, 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 non va a scappare perchè ci vuole uno Chi chiede un cancello subito Due vengono che lo fermano con quattro petre Come vado a uscire io ci faccio la festa Subito Alizio Un cortello Che c'è questa impresa di Catania Cannappare un cavallo Dall'11 quattro petre fino a un bivio per Vicar E mi diceva che sono all'incita 15 mille Se tu dici che mi ha se non potremmo muovere e allora io te dico Cannappare se tu dici no è un po' il discorso eh i segnali hanno a fare un discorso eh ma piccani tutta informazione possibile intanto appena cominciano poi un ciniere poi un lavaggio poi una ditta eh e vediamo come siamo collati e i 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